L'utilità dell'arte che vivo in maniera passiva o attiva è per me fonte di grande gratitudine e mi dà la possibilità attraverso lo studio, l'ascolto, l'empatia e la percezione di essere, spero, sempre una persona migliore. La cultura non è necessariamente utile ma è una delle cose per cui vale la pena essere vivi. È inutile ma comunque è una delle cose più importanti per cui ci siamo. Grazie Grazie Grazie